Siamo qui, siamo bassi, bassi come i nostri prezzi, con i saldi del bottegone della calzatura abbiamo abbassato i prezzi, abbassato i prezzi e aumentato le percentuali di sconto, in agosto per tutto il mese, fino al 31 agosto, sconto benzina e sconti veramente eccezionali, con i percentuali di sconto rialzate rispetto al mese di luglio, anche da bambino, laddove non c'era sconto abbiamo fatto il 30% su molte scarpe, laddove c'era il 30% abbiamo fatto il 50%, sulla Geox per esempio, sulle scarpe più importanti, sia nei numeri più piccoli che nei numeri più grandi, siamo aperti tutto il mese di agosto, tranne la domenica che siamo chiusi e il giorno di ferro agosto, anche addirittura sulle tantissime nuove arrivi, sulle tantissime novità, vi facciamo in esclusiva al bottegone della calzatura il 10% di sconto per rimborso benzina, quindi come sempre vi aspettiamo numerosi per risparmiare, ma solo qui al bottegone Bottegone della calzatura Ciao